Ha coinvolto 450 studenti degli istituti scolastici catanzaresi di ogni ordine e grado il progetto Super Science Me realizzato dall'Università Magna Grecia nell'ambito della Notte della Ricerca, un'iniziativa finanziata dall'Unione Europea per diffondere la cultura scientifica e promuovere l'attività di ricerca soprattutto tra i più giovani. A loro sono stati aperti i laboratori dell'Ateneo per far conoscere da vicino le attività svolte dai ricercatori, ma le iniziative sono partite con un convegno durante la notte piccante, sono proseguite nelle scuole ma anche nei pub e nei luoghi di socialità. È un modo bello e innovativo direi con cui ci siamo presentati alla popolazione calabrese, alle scuole e attraverso cui abbiamo offerto una vetrina di proposte e di cose che vengono fatte all'interno del nostro Ateneo, quindi sono veramente molto soddisfatto della riuscita di questa bella iniziativa che coinvolge come ben sapete non soltanto il nostro Ateneo ma interessa anche Atenei Lucani e anche il CNR. I risultati ottenuti dal progetto durante il biennio 2022-2023 sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa nella sede del Rettorato, cui hanno preso parte anche i docenti Daniele Torella e Donatella Paolino. Rendere fruibile quello che noi facciamo tutti i giorni, portare quelle che sono le ricerche, le nostre ricerche sul territorio, renderla accessibile a chi magari non ha l'opportunità, la possibilità, la voglia di appunto andarsi a leggere un articolo scientifico. È quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto durante tutto l'anno, l'abbiamo fatto andando nei pub, andando nelle biblioteche, andando nei posti dove appunto l'intenzione era quella di raggiungere quante più persone possibili, quanto più eterogene possibili. Chiaramente aprire le nostre porte, le porte dei nostri laboratori ai ragazzi di qualunque ordine grado. Abbiamo avuto anche i piccolini delle scuole elementari che devo dire hanno gradito moltissimo, oltre chiaramente ai ragazzi che si trovano vicini ad una scelta, quindi ho l'opportunità di vedere cosa si fa nei nostri laboratori, cosa poter studiare, rispondere alle loro domande. Questo è quello che ci siamo prefissati come progetto.